Criminalità di nuova in azione a riposto. Dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi ai danni di alcune pizzerie della zona, la banda del fucile questa volta ha preso di mira la pizzeria Frenchi nel centralissimo Corso Italia. I tre malviventi, di cui uno armato di fucile, da qui il nome della banda, si sono introdotti nell'esercizio commerciale nella tarda serata di ieri e minacciando con l'arma il titolare si sono fatti consegnare i soldi presenti in quel momento in cassa, prima della chiusura dell'attività. Arraffato il denaro, i tre ignoti rapinatori sarebbero fuggiti a bordo di un'autovettura. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Giarre, acquisite le immagini di videosorveglianza della zona al fine di ricostruire la dinamica. Nei giorni scorsi la stessa banda si era resa protagonista di altri due analoghi colpi. Nel mirino ancora una volta altre due pizzerie. Ha riposto il ciliegino di Corso Italia e poche ore più tardi a Carruba il titolare di un'altra pizzeria, la rustica di Guardia Mangano. In quest'ultimo caso l'esercente è stato bloccato e rapinato a pochi metri dalla propria abitazione, evidentemente seguito da breve distanza dalla banda mentre rientrava a casa una volta chiusa la pizzeria. Il bottino in quella circostanza ammontava a 1500 euro.